Reduce da una lunga e gloriosa tournée nelle Indie e nelle lontane terre d'America. Signori, stasera si esibirà per voi numeri ineguagliabili, insuperabili, mai visti prima! Madame Messie, ecco a voi il ciuchino Pinacchia! Applausi! Eccolo, eccolo, con il suo palau! Alledro, alledro! Bravissimi, adesso signori! L'uomo più alto del mondo e l'uomo più piccolo del mondo insieme per portare il cerchio di fuoco! Applausi! Signore, signore, signore! So che questo può essere un gioco impressionante, troppo pericoloso, ma noi sappiamo quello che facciamo! Allora, siamo pronti! Rullo di taburo! Voglio un applauso d'incoraggiamento! E uno, e due, e tre! Ancora! Un altro! Ancora! Un altro! Un altro! Il gioco che abbiamo fatto con voi per rendere questo spettacolo straordinario! Pinocchio non può inciampare! Bene, portatelo via, portatelo via! E adesso chiamiamo l'uomo più forte del mondo a portare via il ciuchino Pinocchio! Un applauso per l'uomo più forte del mondo! Eccoli! Eccoli insieme! Guardate la bravura di questo animale! Guardate come finge di soppicare! Eccolo qui! Ancora un applauso, grazie! Un applauso! Eh, purtroppo ti sei azzoppato, caro il mio Pinocchio! Adesso è giunto davvero il doloroso momento di salutarsi! Con questa pelle ci facciamo un bel tamburo! A male, su! E uno! E due! E tre! E adesso aspettiamo! E adesso aspettiamo!